Mentre arrivano nuove immagini dei lupi che passeggiano beatamente in paese, nell'altopiano di Esiago, ci sono i dati del primo semestre. Non c'è un aumento di predazioni, ma erano già tante rispetto allo scorso anno, quindi la situazione continua a rimanere piuttosto preoccupante. Le ultime immagini del lupo sono di tre giorni fa, a Treschè e Cesuna, sull'altopiano dei sette comuni e provengono, non è un caso, dal gruppo Lupo Asiago. Se ne va in giro tranquillamente per strada, per nulla intimorito dall'essere in una zona densamente urbanizzata. Le ultime predazioni, sempre in altopiano, erano di due giorni prima, nella zona di Valbella e Col del Rosso, a Gaglio, anche qui molto frequentata dai turisti. La Regione Veneto a questo punto non ha potuto fare altro che raddoppiare i fondi per attivare la protezione dei capi di bestiame, portandoli a 120.000 euro. Il primo semestre di quest'anno, infatti, vede un bilancio di 148 capi di bestiame predati dai lupi, con una prevalenza di ovini e caprini, ma, come abbiamo visto, non si fermano neppure di fronte ai bovini isolati. Non c'è ancora un aumento rispetto allo scorso anno, che era stato comunque piuttosto negativo per gli allevatori, ma la stagione è tutt'altro che finita e i conti andranno fatti alla fine. L'assessore PAN ricorda che l'indennizzo per la perdita dei capi è del 100% e nel 2019 sono già stati spesi 200.000 euro. L'80% delle predazioni avviene, ricorda sempre il responsabile dell'agricoltura in Regione, soprattutto quando il bestiame è privo di protezione, a cominciare da recinzioni mobili. Il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, ricorda però che le protezioni in una zona come quella dell'Alto Piano, con 70 malghe, sono praticamente impossibili da realizzare perché comporterebbero centinaia di chilometri di barriere. Anche se si tratta di candelotti di esplosivo d'epoca sono sempre piuttosto pericolosi. Una scoperta casuale e decisamente inaspettata, quella fatta da un cittadino di Revinelago nella mattinata di ieri. Una cassettina continente ben nove candelotti di dinamite rinvenuta nel corso di lavori di ristrutturazione dell'abitazione. L'uomo ha subito denunciato il ritrovamento ai carabinieri della stazione di Cison di Valmarino, che giunti tempestivamente sul posto si sono occupati di mettere in sicurezza tutto il materiale esplosivo. Successivamente è intervenuto anche il personale specializzato per le attività di bonifica, secondo cui si tratterebbe di candelotti di dinamite di fabbricazione inglese risalenti al secolo scorso. Durante la seconda guerra mondiale veniva fatto un massiccio utilizzo di esplosivo di quel tipo in funzione anticarro da parte delle forze alleate. In molti casi a usarlo erano per i sabotaggi anche i partigiani, presenti proprio nella pedemontana trevigiana. Una delle tendenze legislative per quanto riguarda l'Europa è quella di vietare la plastica, sacro santo, visto che stiamo soffocando, e c'è chi cerca di anticipare i tempi magari anche locali alla moda. La plastica è uno dei grossi problemi che abbiamo adesso e perché no non utilizzarla più, si può bere benissimo un buon cocktail senza plastica o se no utilizzando una cannuccia diciamo di una cannuccia biodegradabile. Svolta verde per i locali di Piazza dei Signori dal 1 agosto messa al bando la plastica usa e getta. La piazza, famosa per l'orologio senza un segno zodiacale, ora avrà un nuovo primato, sarà la più ecologica d'Italia. Perché la plastica è giusto eliminarla anche per salvaguardare l'ambiente che ci circonda, che genera insomma torna qualcosa di utile anche per noi. 13 i locali che affacciano sulla piazza e che hanno scelto di usare stoviglie e bicchieri completamente riciclabili e compostabili. L'obiettivo che ci siamo dati anche insieme all'assessore all'ambiente di Chiara Gallani e al sindaco Sergio Giordani è di provare ad anticipare a Padova i tempi dell'applicazione della direttiva che mette al bando la plastica usa e getta dal 2021. Vogliamo stimolare a Padova i consumi ma anche l'attenzione degli operatori economici per far sì che qua si possa partire prima con un modello di economia circolare, per cui i rifiuti vengono utilizzati come materia prima e non come materia di scarto che poi purtroppo spesso finisce in mare. Una scelta che ha anche un costo per gli esercenti che andranno a spendere dal 20 al 30% in più rispetto ai prodotti usa e getta. Il costo che garantiscono non ricadrà sulle spalle dei consumatori. No, quello assolutamente no, anche perché comunque il bicchiere e la cannuccia incidono veramente in maniera molto marginale sul costo del prodotto finito che naturalmente invece è composto soprattutto dalla materia prima. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.